Io non credo che Conte sarebbe capace di fare opposizione, quando una leadership viene messa in discussione in un tribunale evidentemente è una leadership già logorata. Io credo che il problema vero del Movimento 5 Stelle sia stato quello di presentarsi agli elettori in un modo e essere sostanzialmente oggi tutto e il contrario di tutto, ma soprattutto il contrario di se stessi. E' questa la crisi del Movimento 5 Stelle e non credo che il dibattito esclusivo sulla leadership possa risolvere questo problema. Dopodiché il professore diceva che dovrebbe mettersi sulle posizioni della Meloni. E' impossibile perché noi abbiamo fatto della coerenza e del rispetto del programma elettorale che abbiamo presentato nel 2018 quando ci siamo candidati, la nostra coperta di Linus. E l'abbiamo portata avanti fino in fondo nonostante le difficoltà, non abbiamo partecipato a nessun governo e abbiamo portato avanti la politica nella quale crediamo. Abbiamo un'idea di nazione, abbiamo un'idea di politica economica, ascoltiamo, cosa che purtroppo molti altri partiti invece hanno smesso di fare, la base che invece è fondamentale e siamo assolutamente allergici a tutto ciò che succede all'interno del palazzo ma non risponde alla volontà dei cittadini. Quindi il Movimento 5 Stelle-Conte potrebbe anche mettersi all'opposizione, ma insomma dubito fortemente che potrebbe raggiungere i livelli di consenso che noi abbiamo, essendo partiti ricordo dal 5% quando siamo arrivati alla cittadini. Ricordiamo l'escalation di consensi nei confronti dei Fratelli d'Italia, certo contro l'opposizione sarebbe un bel concorrente per Fratelli d'Italia adesso, ma insomma questo... No, sarebbe divertente, sarebbe divertente, questo sicuramente... Vabbè, stiamo immaginando scenari... Quello che è stato detto adesso è vero, ma dato che c'è un pool di elettori scontenti, è in quel pool lì che al momento la Meloni è sola a raccogliere il malcontento, avendo un concorrente le cose sarebbero diverse. Potrebbero cambiare, voglio darvi conto...